Il derby dello stretto è nero-arancio. Nuova impresa Corsara per la palacanestro viola di coach Cigarini che riesce ad espugnare il parquet di Messina contro la Basket School con il risultato di 82-85. Una vittoria sul filo di Nana contro un avversario mai d'omo che ha combattuto per 40 minuti. La difesa di Aguzzoli, la maestria di Mavri cede una super-tirtiscinic sul finale le chiavi del successo del team calabrese. Messina parte forte con un secco 5-0. Reggio fatica e deve fare i conti con la condizione falli della new entry Chessel e di secca e sbaglia tanto sia dalla lunga che ai liberi. Qualche bel canesto del capitano Binelli tiene a galla un team che fatica ad entrare in gara. Il primo periodo termina 26-19 e così va avanti anche per i successivi. I tentativi di riavvicinamento sono vani. Basket School raggiunge più volte il più 9 e Reggio insegue. I nero non ci sembrano non trovare le soluzioni efficaci per impattare ma restano in rincorsa. A 5 minuti dal termine una magia di Mavri ci avvicina sul meno 2. Aguzzoli si incolla su di Dio e Tirtiscinic sale in cattedra da campione. Show dell'asso di Kiev. Freddezza ai liberi prima di una realizzazione della Cineteca da tre punti che a conti fatti vale la vittoria. In resistenza fino al quarantesimo contro un avversario mai domo, Reggio vince, sostenuto anche da un pubblico da favola al suo seguito.